Benvenuti o bentornati nel canale. Beh, ragazzi, in questi giorni c'è stato un gran fermento per quella notizia che non chiamerei proprio notizia, ma bomba mediatica, ovvero che dal 2023 i droni inoffensivi come questi, si parla di Gai, Mavic Mini e Mini 2, non rientrerebbero più i G0. Beh, è giusto raccontare che avevano mandato quel video anche a me, parlo del video di questo youtuber straniero che spesso spalla delle belle bombette e l'ho fatto anche altre volte. Questo video me l'aveva fatto notare a metà settimana scorsa l'amico siciliano Silvio, che saluto e ringrazio, e il contenuto mi aveva fatto davvero sorridere perché mi sembrava soprattutto una chiappa views. Poi tutto si è scatenato in Italia nei giorni scorsi, sulla base proprio di questo video. E apriti cielo, spalancati terra. Tutti preoccupati per questa storia. Mi aveva scritto ragazzi il mondo, e poi sentiremo anche adesso se ne ragiona, è qui con me. E commenti sotto i miei video, e più chi ne ha, più ne metta. Ma la mia convinzione di non farci un video sopra questa storia era di non concordare personalmente con quello che diceva questo tizio. Avrei creato certamente un video con tantissimo interesse, è ovvio, ma pure scatenando l'inferno. E oggi l'amico, ma soprattutto l'esperto Alessio Giusti, ci spiega bene perché queste sono solo fake news, e che non dovete preoccuparvi di prendere il patentino dal 2023 per volare con questa roba. Mavic Mini. Mavic Mini e Mini 2. E dunque, ragazzi, siamo qua. Ora vi spiego dove si inizia. Beh ragazzi, innanzitutto, ciao Alessio. Ciao Simone. Un piacere. Grazie a essere qui, siamo insieme, siamo toscani, ci si vede via via. Per chi ancora non lo conoscesse, lui è il fondatore di Flybree, è un operatore riconosciuto ENAC, è istruttore, esaminatore, certificato ENAC. Figura molto importante nel mondo che noi tutti amiamo. Lavora con Regione Toscana, lavora con Anci Toscana, insomma, una figura davvero importante. Ed è un riferimento molto attendibile. Per me assolutamente. Quando ho qualcosa, Alessio, ci può chiarire bene questa storia. Ciao, Mitio Alessio. Ciao. Ciao, sicuro. Niente, lui praticamente è qui con me per spiegarci un po' tutto e spero ce lo faccia bene. Come vedete siamo a Certaldo, patria del boccaccio, qua dietro a me, anzi dietro a noi. Da qui io e Alessio abbiamo fatto un bel video su come volare su Firenze con questi droni che abbiamo in mano. Ovvero io in Mini 2, lui in Mavic Mini. Insomma, con i droni dal peso inferiore a 250 grammi che, se non lo avete visto, vi consiglio di andarvelo a vedere questo video perché è davvero interessantissimo, l'hanno seguito in tantissimi e aveva dato un contributo incredibile. Alessio, ve lo lascio sopra nelle schede. Beh, Alessio, allora, le future regole per il calcolo dell'MTOM, cioè la massa al decollo, che sembrano prevedere che il calcolo debba essere fatto con tutti gli accessori che è possibile montare e faccio una battuta alla bigliette, no? Cioè, a questo punto credo che tra gli accessori c'è anche carri a batterie che ci si considera che vedo. E la borsa. E la borsa, brava borsa. No, perché ci manca, venga fuori anche questa e siamo a posto. E ora si arriva, e dunque, e ho bisogno di te. Io nel canale mi diverto, lo sai bene anche te, e chi mi segue avrà notato ultimamente non mi piace entrare in questioni delicate come le normative. Proprio le sto facendo non tanti, pochi di questi video. Anche se vi assicuro che ho a che fare ogni giorno con leggi e decreti. E dunque concedetemi di dire che non sono uno sprovveduto e le mie cose le conosco e le so bene. Ma preferisco entrare solo se davvero c'è da fare informazione, diciamo sensata. E allora oggi credo che sia giusto chiarire, chiarire con questo video, visto che il regolamento europeo parla, per mia idea personale, poi sentiremo, ci arriviamo Alessio, all'articolo 20, è molto chiaro. e mi sono fatto, come ho detto fin da subito, una mia idea su questa situazione. Preferisco però far parlare chi ne sa sicuramente più di me e mi fa piacere che una persona autorevole come te Alessio ci può illuminare, insomma, ci può aiutare a capire chi segue il canale, chi segue anche te sui canali, a fare chiarezza su queste notizie che sono girate in rete in questi giorni. E dunque, la domanda, a questo punto ci siamo arrivati dopo un po' ovviamente lungo di video. È facile, cosa succederà, e lo domando a voi ma lo domando a lui, a partire da 2023 per il Mavic Mini, Mini 2, che abbiamo in mano di te, è vero che alla fine andranno in A3 e per farli volare accorrerà un attestato a un A3 da quella data? O è una fake news? Lascio a te la risposta. Allora, proviamo a dare qualche notizia. Intanto il regolamento europeo prevede le classi di peso, quindi C0, C1, C2, C3, C4, come sapete, che sono non solo legate al peso del drone, ma anche poi a come è fatto, proprio per dare anche una collocazione giusta nella subcategoria, quindi A1, il volo in ambito urbano, vicino a persone, addirittura con droni sotto 250 grammi, come sapete, si può sorvolare anche persone non informate. E appunto il Mavic Mini, Mini 2, ma anche altri droni che hanno caratteristiche di costruzione, tale da avere comunque un peso inferiore a 250 grammi, rientrano che siano autocostruiti, attenzione, possono essere sia anche droni autocostruiti, non solo commerciali come questo, ma anche droni fatti in casa, fatti in casa vuol dire assemblati, in qualche maniera anche modificati, se volete, perché poi alla fine il discorso del costruttore è legato semplicemente al fatto che il costruttore dà comunque un libretto di circolazione, no? Mi viene in mente il vecchio Spark è alleggerito. Esatto, bravissimo, Simone ha fatto l'esempio concreto, la DJI aveva fatto lo Spark che pesava più di 300 grammi, la normativa all'epoca italiana prevedeva massimo al decollo 300 grammi per ottenere il grado di inoffensività, compresso di paraliche, per cui molte persone, compresso io stesso, ho modificato e quindi ho di fatto tradotto un prodotto commerciale in un prodotto autocostruito. E quando The Flight chiese agli operatori di scrivere il proprio drone con le caratteristiche c'era l'opzione di scrivere Spark, per esempio, con il peso di 300 e passa grammi, oppure un autocostruito che avesse quei requisiti dell'articolo 12,5, ovvero fino a 300 grammi. Ecco, intanto io vorrei dare anche questa notizia, cioè non è detto che al di là degli accessori che uno può montare o meno e siano previsti dal costruttore, uno può anche comunque decidere di scegliere quando poi iscriverà il proprio drone a The Flight per se essere un autocostruttore del proprio drone oppure no. E poi c'è anche un altro aspetto importante, cioè quando io vado ad acquistare un drone come questo, per esempio, che è diffusissimo ormai, insomma, tutti ce l'hanno, ce l'ho anch'io tra l'altro, lo uso. Non a caso è scoppiato il finimondo su questo. E sono anche affezionato a questo oggetto perché funziona veramente molto bene. Al di là che uno lo usi per operazioni professionali, o ludiche, si diverte, eccetera, però comunque è un prodotto molto affidabile. Al di là di questo, comunque, ritorniamo sulla categoria, diciamo, sul peso. Allora, innanzitutto, qualsiasi drone che rispetta queste caratteristiche di peso non ha, diciamo, nessuna scadenza. Quindi può volare oggi, poteva volare ieri, oggi e anche domani, dopo l'entrata in vigore full, diciamo, del regolamento europeo, quindi dal 2023, nella classe C0. Quindi operazioni A1 con la possibilità che l'utente potrà anche non prendere l'attestato, anche se io lo consiglio comunque come cultura, diciamo, di averlo anche per comprendere dei meccanismi. Però può anche non averlo. Però potrebbe anche non averlo perché di fatto la normativa dice questo. Certo. Però, stando, diciamo, a questo, io che cosa faccio? Vado sul sito del costruttore e leggo le caratteristiche del costruttore. Le caratteristiche del costruttore dicono che questo drone qua, in maniera specifica, ha un peso completo, diciamo, quindi un peso massimo a decollo di 200, minore di 249 grammi. Poi, gli accessori eventuali che uno vorrà installarci, previsti tra l'altro al costruttore, faranno inevitabilmente alzare il peso. Però questo è quello che intanto scrive, diciamo, la DJI. E tra l'altro, quello che scrive la DJI, Simone, ti faccio notare, che l'ha ripreso anche di Flight in Italia. Cioè, il portale di Flight, che è il portale ufficiale, dove... Ovviamente passa la macchina. Si va a iscrivere il drone per poterlo volare, farlo volare. Vi ricordo che anche i drone sotto 250 grammi si hanno dispositivi come questo di registrazione alta definizione sono obbligati alla registrazione. Quindi si va a registrare il nostro drone di Flight, si mette il nome del... Si registra come operatore e si mette nella flotta il drone. Si va a scegliere costruttore, DJI, modello e... E là che c'è scritto. ...verà fuori un peso che non possiamo modificare. Il peso è il peso che il costruttore dichiara e di Flight, di fatto, ci certifica che questo è il peso al decollo. Al di là, poi... Cioè, 249 grammi. Esatto, di conseguenza non è possibile modificare anche se il costruttore avrebbe previsto i paralleli che ricordo nel manuale sono accessori. C'è scritto se volete montare un accessorio... Cioè, uno lo compra un accessorio. Un accessorio, quindi non è... Come carica batteria o la borsa. Non è indispensabile. In teoria. Esatto, bravo. Non è indispensabile al volo. Cioè, il costruttore dice io ho previsto che possa volare anche con l'accessorio. Attenzione, però c'è da dire al software di adeguarsi all'accessorio. Quindi bisogna fare delle modifiche, cioè dire in maniera esplicita al software di considerare il peso aggiuntivo. Perché il peso considerato da tutti, scritto addirittura qua, c'è scritto 249 grammi. Non so se si legge. In realtà pesa un pochino meno. Pesa 242. Se non sbaglio. Quello è quello che scrive la DJI che è il costruttore. Quindi io non sto a fare ragionamenti personali. Lo scrive il costruttore, cioè colui che ha fatto questo oggetto. E di fatto nella scatola viene venduto questo oggetto qui. A parte il Mavic 1, Simone, se non mi ricordo male, vendevano anche la gabba dei paraliche. Allora, nella versione combo mi ricordo che c'era anche i paraliche. Con lui... In ogni caso qui non è previsto, tra l'altro. Quindi bisognerebbe andare a cercarlo. Comunque, il costruttore dice questo, che ha questo peso. Poi viene di fatto su The Flight scritto un peso. Se si dichiara questo modello qui non si può modificare il peso. Il peso è quello che è scritto lì. Certo. Quindi è di fatto una classe C0. Che abbia il bollino CIE, che abbia la marcatura EASA o che sia autocostruito, autocostruito potrebbe essere cambio qualcosa, due viti, diventa autocostruito. Quindi potreste anche... Cioè basta vado a fare una modifica personale. Potreste anche domani farvi un manualetto vostro, scrivervelo, e dichiarare a The Flight che il vostro drone è autocostruito. Allora, ecco, allora, a questo punto dal tutto questo discorso che te ci hai fatto, bello corposo... Ma sono chiacchierate, diciamo, che servono un po' come la forchetta per la minestra, diciamo. Di conseguenza, da questo discorso parli di aprire che questa è una fake news. Sì, sicuramente. Allora, se si guarda a livello aeronautico il peso massimo al decolo vuol dire che il costruttore quando fa un aeroplano dice che quest'aeroplano ha previsto tutta una serie di accessori e più di quelli non può volare, quindi non si può controllare in aria. Poi che io smonto i sedili, lo alleggerisco, eccetera, comunque è classificato, ma queste sono macchine che alla fine non c'è una certificazione aeronautica, quindi c'è di fatto un manuale del costruttore e il manuale del costruttore è quello. Se mi schiava 249 grammi io non posso stare dopo a discutere quello che... Non c'è una certificazione di ENAC questo, non c'è un processo di certificazione. Andà male male, levo una vite, lo porto... Sì, teoricamente sotto 250 grammi lo posso anche smontare e cambiare per dire la scocca sopra per mettere la più leggera e dichiararlo che l'ho costruito io e quindi lo posso fare. Non avrà termine assolutamente 2023. Quindi... Buon intenditore poi parole. Quindi, insomma, ecco, diciamo, va bene discutere, va bene anche magari confrontarsi, però probabilmente queste sono chiacchiere che servono esclusivamente diciamo a innescare poi anche delle informazioni e volato... C'è volato il gatto morto. C'è volato. Tanto siamo alla fine. Quindi bisogna trovare un modo per non far venire il vento. No, ora in questo momento non c'è per cui magari credo che riesci comunque a parlare. Allora ti faccio una domanda finale provocatoria. Lo raccattalo. Lo raccattalo. Qui ci scappa anche il gatto morto. Il regolamento europeo su questa parte dei droni C0 è definitivo, non cambia. Quindi chi racconta che cambierà sta dicendo una sciocchezza e quindi bisogna essere chiari sull'informazione dicendo che su questa parte dei droni in C0 e C0 ripeto possono essere con il marchio di Asa quelli che verranno saranno costruiti secondo diciamo dal 2023 quando saranno quelli venduti fino a oggi come questi CE o quelli autocostruiti quindi qualsiasi mezzo che abbia caratteristiche legate al C0 non solo il peso anche la velocità eccetera però in ogni caso possono essere anche autocostruiti possono continuare a rimanere all'interno della classe C0 e di fare operazione 1 anche sorvolando persone non informate senza l'obbligo di attestato questo è quello che dice il regolamento e non cambia sono sicuro poi se domani se domani lo cambiano cioè faranno ad oggi è così quindi oggi noi diciamo quello che è ad oggi e di conseguenza chiudiamo perché ovviamente c'è un freddo bestiale è un freddo bestiale io sono lungo a bestia te sei peggio di me da buoni toscani si parliarebbe a ore e si chiude dicendo dal 2023 posso continuare a volare se non c'ho l'attestato a 1 a 3 continua a volare? certo ragazzi Alessio mi dice che si continua e dunque tranquillità e state sereni salve un cartone è rimasto quindi insomma bene insomma io ho fatto la fotografia di quello che è oggi poi se domani cambia qualcosa non sono io che cambia le norme io vi dico semplicemente questo non è un problema è qualcosa che si riesce in qualche maniera eventualmente a risolvere tra l'altro stasera farai una live giusto? se lo posso dire allora stasera farò una diretta facebook youtube quindi chi vuole può andare su youtube vi metto il link sotto in descrizione canale Flybree o pagina facebook tanto metto il link sotto esatto parlerò di come la rete e i social come dire adattano un po' i regolamenti interessante in base alle esigenze molto interessante questa live quindi sarà un modo anche per confrontarsi in maniera serena cercando di rimanere aderenti a quelle che sono veramente le regole poi che a uno gli piacciono o meno l'altro discorso quanto meno l'informazione cerchiamo di darla corretta e poi la gente deciderà su quello che fa allora ti seguirò stasera va bene fa piacere vi aspetto ciao ragazzi magari vengo a salutarvi grazie volentieri magari passo a farlo un salutino anch'io se volete venire ci si vedo alla prossima ragazzi video lungo come sempre ma credo importantissimo per mettere un punto reale e serio su tutte queste decennie degli ultimi giorni ciao ragazzi ciao buona serata ciao ciao